Allora oggi vi faccio vedere una tecnica che potete utilizzare se vi capita anche a voi che vi si rompe o non funziona bene il telecomando, ora vi spiego Il mio telecomando quando premevo i pulsanti non li prendeva più, quindi su certi pulsanti devo accensione e spingimento e il alzare e abbassare la temperatura non li prendeva più Quindi cosa dovete fare se avete questo problema? Il 99% delle volte risolvete con questa tecnica Allora smontate il telecomando e tirate fuori la parte questa qua, i pulsanti Nella parte dietro vedete che ci sono i contatti, questi sono dei piccoli contattini che si usurano e non fanno più il contatto sulla scheda Vi faccio vedere la scheda che è questa qua, questa parte qua interna, vedete qui dove è verde Quindi non facendo più contatto e non prende più comandi, quindi cosa dovete fare? Una cosa molto semplice che però spesso vi risolve Qui dietro io, anzi guarda ve lo faccio vedere da quest'altro lato che si vede meglio, aspettate Allora vedete, queste parti nere qui sono queste qua che si usurano Quindi che dovete fare? Dovete prendere una matita, io sto usando questa, una 2B, una morbida, anche più morbida se volete E andate a strofinarla bene nella parte dove c'è il contattino Allora vi spiego, la matita è grafite, quindi ha contatto elettrico Quindi lasciandogli una patina sopra, rifunziona bene il contatto Quindi io questi tre tasti erano quelli che non funzionavano Nell'accensione e nello spingimento e ne l'amumento della temperatura Vedete, lasciate proprio un bello strato di grafite sopra Passandola così poco accorgerete, essendo una matita molto morbida Rimane praticamente subito la polverina della matita della grafite sopra Eccolo qua Vedete? Io uso questa, 2B L'importante è che sia una matita morbida La grafite l'ho passata bene sui tre pulsantini che mi davano problemi Adesso vado a rimontare il telecomando Se volete vi faccio vedere pure il rimontaggio Aspettate che abbasso Ecco qua Allora vado Questo è un telecomando un po' problematico nel rimontaggio Allora vado a rimettere, vedete, la parte in gomma qui E voilà Rimetto le vitarelle Allora vado a rimontillivare Grazie a tutti. Allora, rimontiamo anche il dietro, questo è tutto a pressione, calcolate questo telecomando è antichissimo, quindi sicuramente riuscirò a farlo andare già più di una volta che gli faccio questo passaggio, quindi... Et voilà. Allora, ora lo andiamo a vedere insieme, vedete, segna 27, allora aspettate che provo a fare una cosa, aspettate eh. Allora, ecco il telecomando, vedete, acceso, allora i tasti che non mi funzionavano, era l'accensione e lo spingimento, che adesso funziona, e poi la temperatura. Vedete? Quindi avete visto, con un trucchettino semplice semplice, prima di ricomprare un telecomando, apritelo e provate, poi nell'eventualità non funziona, non ci riuscite perché il problema non è quello lì, ne lo ricomprate, però calcolate che io questo qui già saranno un paio di volte che lo faccio, quindi già ho allungato la vita di un paio d'anni, quindi provate. Se l'avete già fatto e ha funzionato, fatemi sapere nei commenti sotto.